Il presidente della regione toscana Enrico Rossi è intervenuto ad Arezzo per l'insediamento del nuovo direttore generale di ASRA Toscana Sud-Est, Antonio Durso. È stata l'occasione per fare il punto sulla sanità toscana e rilanciare gli impegni garantendo il turnover con Quotacento e parlando concretamente della formazione degli specialisti. Anche Quotacento siamo in grado di affrontarla, mi dicono i nostri uffici che hanno studiato il problema, che stanno facendo i concorsi, che come sapete abbiamo sbloccato dovunque. Piuttosto la preoccupazione emerge sul piano futuro per quanto riguarda le specializzazioni. E quindi stasera io ho preso impegno, come già sto facendo da qualche tempo a questa parte, perché sia la regione a programmare un obiettivo di specializzazioni di medici che si specializzano nei vari settori di cui noi abbiamo bisogno nei prossimi 5, 6, 7 anni. Questo focus di Rossi è arrivato pochi giorni dopo due accordi importanti stipulati dalla regione, uno con la dirigenza medica da 6 milioni di euro e l'altro da 9 milioni con i sindacati e relativo al personale sanitario, quindi infermieri, os e tecnici. Il presidente della regione ha consigliato poi a Durso di visitare continuamente tutte le città dell'asile di sua competenza, ovvero Siena, Arezzo e Grosseto. Antonio Durso va a sostituire Enrico Desideri, ringraziato da Rossi per gli anni di prezioso servizio. Il direttore Desideri che ringrazio lascia un testimone importante che io raccolgo e porto avanti sperando di raggiungere risultati migliori e ancora più forti di quelli che ha raggiunto lui in un'opera straordinaria. Di tre aziende ne ha fatto una, io dico che l'azienda è fatta, è stata disegnata, è stata disegnata bene, adesso bisogna solo andare avanti e produrre risultati di salute per i cittadini. L'area di Asla Toscana Sud-Est è molto vasta, 11.560 km2, praticamente metà regione, anche se conta solo un quarto dei suoi abitanti, 838.000 persone. Nel territorio ci sono 13 ospedali. Nel territorio ci sono 13 ospedali.